Sapevi che il riso integrale non si prepara come il riso bollito? Segui questo video per imparare la cottura corretta di questo cereale in chicco che è alla base di un'alimentazione sana. Per prima cosa ti insegno un trucco per abbreviare di molto i tempi di cottura lunghi del riso integrale che normalmente, a meno che il riso non sia parboiled, sono di 40 minuti circa. Per ridurre questi tempi a circa 20-25 minuti di cottura non devi fare altro che mettere il riso in ammollo per almeno 4-6 ore e possibilmente con acqua tiepida, non fredda. Dopodiché butta via l'acqua di ammollo e pesa il tuo riso in una bilancia da cucina perché questo è un dettaglio importante. La cottura ad arte prevede infatti che tu metta in pentola la quantità di acqua giusta che deve essere il doppio di quella del riso, in peso. Poniamo che tu voglia preparare 200 g di riso, dovrai allora aggiungere 400 ml di acqua. Ora metti in una pentola di acciaio inox il tutto, aggiungi un po' di sale e copri con un coperchio dotato di sfiato. Fai arrivare a bollitura e poi abbassa la fiamma al minimo e lascia cuocere col coperchio chiuso fino a fine cottura. Dopo 20-25 minuti al massimo il tuo riso sarà pronto e cotto perfettamente anche senza girarlo di tanto in tanto. Questo è il metodo corretto che adottano in oriente per la cottura del riso integrale. Tutta l'acqua evaporerà da sola e il riso rimarrà cremoso e con tutte le sue proprietà nutritive che non andranno disperse come quando si fa invece il riso bollito e alla fine lo si scola. Niente di più sbagliato, in questo modo si perdono infatti molti nutrienti importanti assieme all'acqua di cottura. Ora puoi condire a tuo piacimento il tuo piatto di riso integrale e buon appetito!